buongiorno nipoti come va oggi continuiamo il nostro viaggio in italia siete contenti vi do un suggerimento da nonna copritevi che dove andiamo va freddo oggi non vi porto una ragione sola arriva un bastimento carico carico di nord oh mia bella madonnina che mi ha miso a cucinare quando è bello il nord che è? dove l'aspettavate? il nord è bello sapete come si dice? ogni nord è la nonna sua le regioni italiane sono come i nipoti tutte belle parliamo del nord al nord sono poco diversi da noi sembrano un poco più arrabbiati ma non è vero però e poi usano dei termini un poco strani dicono brainstorming conference call io tengo un nipote al nord e ora parla così voglio il coffee take the time ma non fa niente tanto una nonna ti capisce anche quando non ti capisce poi il nord lo chiamano nord ma c'è un sacco di gente del sud io ogni mese devo preparare una ventina di pacchi taggiù ma mica glieli mando perché si mangia male al nord eh al nord si mangia bene sta il riso però io mando il pacco taggiù perché come si dice il riso un'ora ti tenete un bacco taggiù al giorno e la fame di torno però quelli del nord bisogna dare un consiglio la quantità di cibo si fa occhio non con la bilancia perché la fame non si misura il grammi si misura il sentimento vi faccio un esempio questo è un cucchiaio misurato è questo è un cucchiaio della nonna quale preferite avete sbagliato in tutti i due casi per una nonna dovete mangiare tutte e due non si lascia niente ti ho fregato eh la nonna scatta non importa se siete del nord o del sud la nonna ti frega sempre nord o sud aprite la bocca A ALMA